Musica Ciao ragazzi siamo Sabri ed Ale E benvenuti su Naz Questo è il nostro nuovo canale su cui vedrete cose che non siete abituati a vedere sui nostri soliti canali Che cosa significa Naz L'orgoglio che si prova quando si è amati Quando tipo sono felice o rido tanto lo capisco perché mi fa male qua Grazie Quindi come potete vedere a nostre spalle noi da qualche settimana siamo un po' incasinati con la casa Viviamo tra gli scatoloni ogni tanto dormiamo anche per terra Ok quindi tu vai qui Si E io faccio lo studio qua Si Nella parete di destra metterò le vetrinette con tutti i lego Però mancano divano Il bagno E il tavolo della cucina Oggi il giorno in cui voi guardate questo video Io in questo preciso momento sono da un notaio A firmare l'atto che farà diventare la casa di mia proprietà Siamo in mezzo a un bel trasloco Che mi fa diventare loco E questi sono i Naz esperimenti Cacciaroca che spavento Wow Mamma ho messo in ordine la camera Non ci credo Sembra di essere alle terme raga Quindi quale miglior momento per vendicarsi se non il periodo più romantico di tutto l'anno E che era riempito di peperoncini Si dicono le parolacce Le regole di questo video sono molto semplici Avremo due sensi completamente oscurati E ora andiamo a cucinare Cos'è successo? Ho visto che hai sputato No Buono Un'azza musical Mentre la peladrona dorme Il nostro giro diventa enorme Tutta la mia vita Lo sai Non cambierei mai Ti prego bevi la camomilla Che così forse ti addormenterai Ma Ma quando si potrà Uscire senza il topo La gente ormai è diventata un po' ribelle E sono davvero Oh Sono più grande di testa E' una cosa che adoro E sono ancora in vestaglia Ma ho già steso la tovaglia Tra quanto è la colazione Il vento perfetto L'aspetto eh Ciao 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 Per la Pasqua perfetta per te Io son come Odini Sparisco e appaio qui Oh baby Il nostro regalo sei tu Oh baby Natural Benvenuti in questa prima puntata di Faunats Faunats Il mondo degli animali si divide in due macro categorie E i protagonisti della nostra puntata Ovvero gli uccelli Qui la famiglia dopo tanti mesi si allarga Perché stiamo andando a prendere le nostre uova di anatre E' bella che sei principessa Check in Natsair Buongiorno Buongiorno Ciao E' passeggeri del volo a Milano Il primo chiamato al gate numero A4 The cat is on the table Yes The cat is on the table Cesarino perfetto Signori Pignacolata Siamo prima di lui No Sabri Ma noi non siamo qua E dove siamo? Noi siamo Là sull'acqua Non mi sembra male No amore Nooo Ciao ragazzi siamo Sabri ed Ale E benvenuti a pod nuts la seconda puntata Guardate quanto è bello amore ci siamo Sono la inglese e Marlou ricarica amore E' rimastato sopra un pulmo e ci hai stampato su un bel bagno Con la mia faccia mai Dovevate prendere me col cavolo che mi calzavate così eh E' stata bellissima E' stata bella Da amici Mi sono divertito E vi ho conosciuto Guarda che siete fidanzati voi eh Ma quanti sono? Su Sabri e Bicca canti pure tu Su Sabri e Bicca canti pure tu E a voi dico mai grazie mille Mille Grazie davvero Solo per voi Per festeggiare Halloween vi do il benvenuto nella nostra Horror House fatta in casa ... E' andare di corso in cantina ... Ehi ... Mamma mia, tu quanto... Brava! Mi devi portare in ospedale, te lo giuro, no Ale Da 1 a 10, quanto sono Mario? 9 e mezzo Aspetta un po' Ora 10, ora... No, Ale, Ale, non vale E naufragarmi dolce in questo mare Che provi! E spalmami bene! Wow, hai preso l'insolazione, per caso Questa è la magia del nostro viaggio a sorpresa Priorità, Milano, Malpensa Valencia, in Spagna Che figo, Valencia Brava! Il vaccino, perché ti piaccio? Ci eravamo dimenticati quanto è bello viaggiare Scoprire posti nuovi, volare, muoversi in vie che non conosciamo Alla scoperta E farlo in questo modo, non sapendo mai quello che sta per succedere È stata la ciliegina su questa torta magnifica Noi vi ringraziamo per aver seguito il nostro viaggio Anche se solo virtualmente E vi vogliamo tanto, ma tanto bene Grazie! 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 Grazie a tutti.